Gesù è già qui. I credenti del Vecchio Testamento avevano ricevuto una promessa da parte di Dio. Un giorno il Messia sarebbe arrivato per liberare una volta per tutto il popolo di Dio. Michea 5, 2. Questi credenti hanno vissuto ogni giorno della loro esistenza in uno stato di attesa, di aspettativa. Quando arriverà il Messia? È già venuto il nostro Messia e il Liberatore? Quanto sono diverse le cose per noi, noi che non dobbiamo più aspettare la venuta del Salvatore. Lui è già venuto, e non solo è venuto, è ancora qui e vive in noi. La persona che i credenti hanno atteso per migliaia di anni è qui con noi, al nostro fianco, ogni giorno. Che dono meraviglioso, che notizia straordinaria. Il tuo Salvatore, il Messia lungamente atteso, il tuo Liberatore è qui. Non devi più guardare il cielo mentre aspetti Gesù. Gesù è qui, proprio vicino a te e vive in te. E ti salva ogni volta di cui ne hai bisogno. Anche oggi puoi contare su di Lui. Grazie ad esistere. Eric Selerie Grazie a tutti.